ben ritrovati cari amici di auto occasioni oggi sono ospite da progetto in corso unione sovietica 141 a torino e naturalmente con me sergio lai ciao sergio ciao elisa ben ritrovato a tutti apriamo con una novità che i nostri amici sicuramente vorranno sentire sono ripartiti gli incentivi statali non solo sul nuovo ma anche chilometri zero e usato assolutamente sia elisa questo mese ripartono gli incentivi statali quindi attenzione a correte perché abbiamo veramente anche le macchie pronta consegna incentivi fino a 1500 euro sul nuovo e anche attenzione sull'usato euro 6 quindi chilometri zero e aziendali e poi il progetto non fa mai mancare la sua formula esclusiva la formula tutto è possibile con cui si viaggia senza pensieri e con zero anticipo esatto elisa con la formula tutto è possibile abbiamo veramente avuto un riscontro veramente positivo per tutti i nostri clienti ad esempio potete acquistare una vettura panda 500 o lancia y con 5 anni di furto incendio atti vandalici eventi sociopolitici rifacimento chiavi 24 mesi di valore nuovo e poi ancora 5 anni di garanzia 5 anni di tagliandi in più la nostra testa era fidelizzata fidetti car tutto a partire attenzione da 89 euro al mese anche senza anticipo e soprattutto potete decidere voi se al terzo o al quinto anno cambiare la vostra vettura oppure tenere la vostra vettura e in più progetto siccome ci mette sempre del suo abbiamo un'offerta veramente imperdibile a questo mese con un euro in più uno smartphone a vostra scelta insomma ma sergio sei stato davvero chiaro una formula da non farsi scappare ma entriamo nel vivo della puntata con tutte le proposte sul nuovo esattamente nuovo partiamo da panda questo mese veramente abbiamo delle offerte veramente interessantissime a partire da 8.900 euro panda hybrid oppure 500 hybrid o lancia y hybrid a partire da 9.900 euro con la formula tutto è possibile veramente avete avrete praticamente di più e allora adesso seguiamo sergio con l'usato e chilometri zero e le aziendali state con noi da progetto questo mese un'offerta shock panda a partire attenzione prezzo da 6.900 euro con la formula tutto è possibile una delle più richieste dal nostro pubblico è la fiat 500 ne abbiamo vari modelli e chilometri zero o aziendali il prezzo veramente interessantissimo a partire da 8.900 euro con la formula tutto è possibile una delle vetture più richieste dal nostro pubblico femminile e non solo è la questa bellissima lancia y e abbiamo anche qui varie versioni e vari allestimenti motorizzazioni benzina anche qualcosa gpl o diesel prezzo qui veramente interessante perché abbiamo soltanto 8.900 euro con la formula sempre tutto è possibile vi ricordo sempre che aggiungendo un euro abbiamo questo mese in omaggio per voi un bellissimo smartphone da progetto abbiamo detto anche vetture chilometri zero questo come questa splendida tipo è una versione cross è un mille benzina il prezzo è veramente interessante perché partiamo da 14.900 euro sempre con la formula tutto è possibile da progetto in corso di una subietta 141 anche marchio jeep abbiamo delle versioni jeep renegade sia due due vd che quattro vd prezzo veramente interessantissimo come questo come questo spendo 1120 cavalli longitud a un prezzo a partire da 16.900 euro con la formula tutto è possibile vettura per la famiglia e non solo spende da 500 l ne abbiamo vari modelli soprattutto chilometro zero e aziendali il prezzo a partire da 14.900 euro con la formula tutto è possibile e vi ricordo sempre che con un euro in più vi ammaggiamo uno sbarfo per questo mese per chi ama la sportività splendida 500 x anche qui ne abbiamo vari modelli abbiamo delle vetture aziendali veramente interessantissime a un prezzo veramente molto molto importante 13.900 euro vetture aziendali con pochissimi chilometri con la formula tutto è possibile da progetto in corso di unione sovietica 141 quindi non solo marchio fiat lancia e abarth e jeep ma anche a vetture straniere come questo spendo san yong questa è una versione addirittura è un diesel gpl chilometro zero prezzo veramente shock 12.900 euro con la formula tutto è possibile avete visto tante offerte che vi offre progetto ma ricordiamo sergio come abbiamo detto in apertura che sono ricominciati gli incentivi statali assolutamente sia elisa sono i partiti gli incentivi statali mi raccomando la corretta abbiamo anche delle vetture in pronta consegna e mi raccomando la formula tutto è possibile dove veramente avete non avete pensieri ma avete tutto compreso e soprattutto zero anticipo zero anticipo assolutamente sì ricordiamo ai nostri amici che voi siete sempre aperti dal lunedì alla domenica esatto elisa siamo sempre aperti dal lunedì alla domenica io sergio lai e il mio staff saremo sempre a vostra disposizione davvero è tutto da progetto io ringrazio sergio grazie a te elisa vi aspetto numerosissimi io vi ricordo l'indirizzo corso unione sovietica 141 a torino da qui è tutto alla prossima puntata alla prossima puntata Grazie a tutti.